Inoltre come potete vedere ho allegato anche un gruppo Telegram dove porto prove di pagamento, aggiornamenti, possiamo interagire tutti e vi posso prestare maggiore assistenza. Trovate in descrizione anche il link del mio gruppo Telegram. Ok ragazzi, la piattaforma di oggi è questa qui e si chiama paragonmall.vip. Prima di iniziare a spiegarvi la piattaforma voglio dirvi che io non sono consulente finanziario ed inoltre dovete sempre depositare ciò che nel caso siete disposti a perdere. Ovviamente questo discorso equivale per tutte le piattaforme in questo campo quindi il campo delle criptovalute. Allora ragazzi per la registrazione dobbiamo inserire la nostra email, password di accesso e confermiamo la password di accesso. Qui invece dobbiamo inserire una password di transazione ovvero la password che useremo per andare poi successivamente a prelevare. Qui ci sarà il mio codice ref e clicchiamo su registrati ora. Dopo aver effettuato il login ci uscirà questo breve annuncio dove possiamo leggere varie informazioni. Allora innanzitutto ci dice che la piattaforma dopo aver effettuato la registrazione ci darà un bonus di 10 USDT. Questo bonus lo riceveremo tutti. L'investimento minimo è di 12 USDT, l'importo minimo di prelievo è di 1,5 USDT. Poi il bonus di iscrizione non può essere ritirato direttamente ma bisogna appunto depositare. Inoltre non c'è nessuna commissione di prelievo e i prelievi arrivano subito. Qua poi ci sono i pari VIP che dopo andiamo a vedere. E qua possiamo vedere i livelli ref. 7% primo livello, 3% secondo livello e 2% il terzo livello. Allora ragazzi questa qui è la dashboard principale. Andando nella sezione di iscrizione stipendio possiamo vedere che è stato lanciato il primo aprile del 2023. E possiamo leggere altre informazioni riguardanti la piattaforma. La stessa cosa andando qui nella sezione azienda ci dice cosa va a fare la piattaforma come ad esempio aiuta i negozi online ad aumentare le vendite. E possiamo leggere comunque altre informazioni come ad esempio chi è alimentato da Coinbase e Binance. Due dei wallet più importanti in crippoto. Qui poi abbiamo le sezioni che dopo andiamo a vedere. Qua ci sono i vari VIP e infine abbiamo l'elenco membri dove ci sono tutte le operazioni ovvero i prelievi, i depositi e i guadagni dai vari membri presenti appunto in questa piattaforma. Allora innanzitutto andiamo a vedere come si deposita. Andiamo qui nella sezione ricarica. Cosa dobbiamo fare? Clicchiamo qui su copia e possiamo fare un normale deposito dal nostro wallet. Mi raccomando in USDT Rete TRC20. Dopo aver effettuato il deposito ritorneremo su questa pagina e clicchiamo su invia. In massimo 20 minuti il deposito arriverà nell'account appunto della piattaforma. Se poi riscontrate problemi potete contattare il servizio clienti. Vi basta cliccare su questa chat. Ok dopo aver depositato ovviamente dobbiamo andare ad acquistare i VIP. Il VIP però vediamo un attimo in breve tutti i VIP che ci sono. Allora ragazzi questo qua è il VIP 0 è quello là che appunto è il VIP 1. 45 dollari reddito mensile e utile giornaliero 1,50 dollari e costa 22 dollari. Qui abbiamo il livello 2 che costa 50 dollari e guadagniamo 3,50 dollari al giorno. Livello 3 guadagniamo 435 dollari mensili. Inoltre come vedete qua c'è pure attività quotidiane. Come vedete sono attività quotidiane una per ogni VIP e poi possiamo leggere quanto danno per ordine. Ad esempio qua utile giornaliero 128 dollari. Poi abbiamo il livello 6 ad esempio che guadagniamo 11.340 dollari mensili. Abbiamo il livello 7 che guadagniamo 720 dollari. Poi abbiamo fino al VIP 10. Allora il livello 8 costa 2,990 e guadagniamo 1,623 al giorno. Con il livello 9 guadagniamo 3,712 giornaliero. E infine il livello 10 che costa questa cifra enorme e guadagniamo 9,815 dollari al giorno. Per acquistare il VIP semplicemente cliccate su iscriviti adesso io in questo caso non posso farlo e poi cliccate su confermare e acquisterete il livello. Ovviamente però ragazzi dovete prima depositare. Ok dopo che abbiamo appunto fatto il deposito e acquistato il VIP dobbiamo andare a fare le azioni. Dopodiché ragazzi in base al VIP che avete scelto cliccate sulla freccetta come in questo caso e ci sono le varie azioni. Come vi ricordo che possiamo fare un'azione al giorno clicchiamo qui sopra sull'immagine e clicchiamo su Submit. Dice pagamento andato a buon fine. Infatti qui abbiamo i vari compiti qua ci sono quelli da fare e poi ci sono quelli completati. Infatti qui ragazzi possiamo vedere che io ho guadagnato la percentuale appunto di oggi e ora andiamo a vedere come si effettua il prelievo. Clicchiamo qui su prelievo, ci uscirà questa scritta aggiungi il tuo metodo di prelievo e clicchiamo su invia. Uscirà questa pagina e clicchiamo aggiungi metodo di prelievo. Aggiungi tipo usdt.trc20 già è selezionato. Qua inseriamo il nostro indirizzo e qua la password di transazione. Infatti ragazzi come vedete ora il mio address usdt.trc20 è stato appena aggiunto e i miei prelievi arriveranno su questo address. Ora per prelevare qui nella sezione importo sul conto ci esce la quantità che noi possiamo andare a prelevare in questo caso 1,50$. Inseriamo qui l'importo del prelievo. Qui la password di pagamento quindi la password di transazione. Dopodiché clicchiamo su selezione il metodo di prelievo, selezioniamo l'address e clicchiamo qui su invia. Infatti ragazzi andando nella sezione registro di prelievo vediamo che il prelievo è in corso di revisione. Nel frattempo che arriva perché arriva in pochi minuti vi faccio vedere il sistema REF. Cosa dobbiamo fare? Andiamo qui nella sezione squadra e possiamo copiare il nostro link REF oppure il nostro codice di riferimento. Qui ragazzi abbiamo la dimensione della squadra, ricarica squadra, ritiro squadra e altre tre sezioni. Nuova squadra, numero del primo addebito e numero del primo ritiro.